Allora ragazzi, quando rientro con la gamba, in questa maniera con la testa fuori, e io cerco di allungare la gamba, il tuo obiettivo quale sarebbe? Gli portano la testa dentro e allungo? Precchi! E poi basta rifiuti! Ho capitato che invece la persona che vuole entrare forte con la testa fuori e fuori, io vado giù, non riesco a portare la testa dentro, e a questo punto mi crevo spazio qui, mi allungo qui, non riesco, vado a pigliare il mio, con la mia gamba, non tendo cosciatura, vedete qua, la mia gamba che sta chiusa da voi forte, forte Francesco, si mette a squadra qua, una volta che sto qui ragazzi, comincio a girare, giro, giro, fino a che vado a cercarmi, possibilmente la gamba di spinta che ho qua, la caviglio qua, la volo con la squadra, adesso mettiamo il pericolo, c'è la potenza di pericolo, che ero io, vado qui da un contro contro, chiudo e posso partire pure con la mezza, c'è questo tipo, vedete con la tecchia, giro.